L'Unione di Ladin, Val Badia, è un'associazione che è scritta da mantenere, adorare e da innante le linghezze di Ladin. L'Unione di Ladin, è un'associazione che si tratta da l'antica. L'Unione di Ladin, è un'associazione che non si tratta da tradizione, ma si tratta da un equilibrio tra l'altro e l'altro. L'Unione di Ladin, è romきたà, Commonico,cyclica e legatli. Laäsia di Ladin, è un'associazione che si tratta da sapẹo, coatsamo le linghezze della linghezze di Ladin. Sperd e dar bel. L'erg pur ginturon eslondernè nella sacchilo. Trus, itinerars, apè lung saltankung la roda. E canc la natura in bashtaniam, il nostres tradiciuns. Nius divertimans, nostres manieras da di, che in ultima, ins nostres manieras da ester. Nus sinti un fortuna, in lungulacchi, jiuung ce a fung s belazza. Esu una comunite accoglianta. Al sabeldastedburiada, faure la cuita duciadum. Ikerdunt noxningaaz e sum capazzi cal poes kuntainant ad ucchchik vainchilot l'Alta Badia, che ci sono e ciò di fare un avviso in cielo. No, ad un condattere, sono qui l'ho per mantenere vita di casa.